Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo unissimo video e oggi siamo su Brawl Stars Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel pollicione all'insù e attivare la cappellina per ricevere tutti i miei video Vi consiglio anche di iscrivervi al canale di Alex di Lascio, Martins21, Luca d'Hexagoner1 e fratelli pazzi e lasciategli pure a loro per i miei pollicione all'insù Allora, oggi andremo a giocare a Raid e vedremo con Dynamite se ci metteremo tanto oppure no a distruggere il boss di Brawl Stars Anche se dovrebbe... anche se io me lo pensavo più peggio il boss di Brawl Stars Tipo pensavo che era un misto tra tutti i brawler io Anche perché poi con Dynamite io sto lontanissimo quindi posso... Io sono un Dynamite che... cioè giro tutto intorno E mi faccio fare un bel bombone No 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 Ok Corriamo... ma cosa stai facendo Pam? Madonna grazie Colt che mi hai salvato la vita Innanzitutto però Pam... no 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 non morirà Mi sacrifico io Adesso è morto Cioè è morto Colt Aiuto help me help me Vai ora ulti Boom No, e dai, no, robotini, no, 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 help me, help me, ok, per fortuna, vabbè, non ho la fortuna che è respawnato, scappa, scappa, stupido, ma sei stupido, sì o no, 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 dai, pam, pam, scappa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Oh no, ok, sono vivo, vieni che scappa, ok, vieni che scappa, ok, vieni che scappa, ok, lascia, pam, vi faccio fare un bel botto, No, 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 ok, faccio fare un bel botto, mi stavo mettendo tantissimo però, no, mi sa che il dynamic non è l'ideale, mi sa che il dynamic non è l'ideale, Mi sa che il dynamic non è l'ideale, help me, help me, help me, help me, help me, ok, ok sono salvo eh però che squadra che squadra di schifo che abbiamo no 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 No, le moriamo sti cosi E con Beh, ma mi sa che non li potrà mai sconfiggere Facciamo di fare un bel botto Allora io lo tengo a bada Questo bel robottone Ok, mi nascondo qua No, 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 no No Odio Cavolo, dai, ma perché il fricolto normale è così difficile con Danamike? Cioè è molto difficile giocare Ci sono ancora il 53% Siamo a 3 minuti e 40 Beh, mi sa che... Ok, per fortuna Pensavo che avevamo perso, invece no Ok, sono rinasco Ok, faccio fare un bel botto No, e dai che palle No, e dai, dai No, 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 no E dai però, odio Dai, che palle Vabbè, io a questa partita la perdiamo Cioè, io a queste cose che ti vengono a picchiare così, madonna Quanto li odio? 5, 4, 3, 2, 1 Ok Eccomi Lancio Se rincontro uno piccolo me ne vado Faccio fare un bel botto No, e dai, ma che palle No No E dai, no, no, no Basta, basta Ok, grazie No, no, io me ne vado Ma basta, dai No, dai Maledizione Quanto odio Mica e Pama non è morta No, io me ne vado Dai Ma siamo troppo dei nabbi Cioè, ormai è finita Abbiamo perso Infatti abbiamo perso Madonna Quanto siamo nabbi No, dai, nabbi non lo uso mai più In Ah, ok Però deve essere almeno L'ho avuto Meglio Ma tu hai durato già 6 minuti sto raid Che cacca Che palle Facciamo rapina che forse è meglio Mi sa Ah, però sapete che io ho fatto 5 partite con colte Le ho vinte tutte in un millesimo secondo Millesimo secondo Però per dire Ok, ne ho quasi chillato una Adesso So che là c'è una Penny Infatti l'ho quasi ammazzata Adesso io colpisco la torre La torre Si c'è la torre Aspetta Vai col bombone Boom Eh, l'ho colpito Non molto però Ok, ho quanti nocchillati Madonna Ma col bombone Non ho colpito niente Aiuto Ha dovuto Proprio Proprio Beccare me il mortale Ora sul serio Dovete smetterla Ok Ok, dai L'abbiamo chillati tutti Colpiamola Ok, maledizione No Ok 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 Ok, la fortuna No No Oh, come ho fatto a scrivere tutto Non ci credo Lancia il bombone E scappa Ok, perfetto Lancia, lancia, lancia Vai Siamo dei grandi Dai, siamo Oh, sì Abbiamo vinto Sì Dai, dai Dai a Mike felice Con quelle sue Bombe Che ti ammazza Nel millesimo secondo Oh Ops Oh, teniamo un corvo Non ci credo Eccoli Guarda se non tengo nocar l'oro Maledito No, dai, Frank No, dai Frank Vencano Ok 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 Beh, che è quasi morto E gli iniziamo a colpire un po' con la cassa No, al pomì Mi è mancato Mi ha colpito Bravo Corvo Grande No, però mi sai che ce l'ha scarso Sto qua, Corvo Dovete morire Dovete morire Dovete morire Pum Bye bye Vai Ok Oh, gli ho fatti fare un bel botto Gli ho fatto fare una kill Ah, c'è da Jesse No, mi ha preso Ok, grazie Corvo Ti adoro Ti adoro Ti adoro No, mi sa che non è il Il meglio andare Ok Recupero Vit Siamo circondati Siamo circondati Infatti sono morto Morto Il mio zio Non ti ho detto Io moro Lo so che vengono qua Infatti Eccoli Non ci provare Mori brutto Frank Mmm Killato Mancato Lanciamoci la bella bomba E Vai Lanciamo Lanciamo Vai Leva di Frank Leva di mezzo Questo Frank E ce la possiamo fare Boom Questo è il migliore Corbi 16 Apriamo Esco E Facciamo sopravvivenza Singolo Oh Tengo penne Due casse da aprire Ok Dai Penny Per un millesimo Non la posso potenziare Che palle Un biglietto Per gli eventi Pensavo che Il mio zio Dova bravo E Niente Mi posso comprare Il negozio Aspetta 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 Non è che c'è qualcosa Da comprare Sì ma Trenta Per una Casse Non ci trovo Niente No Dai Mi manco Un putt Energia Per Ma io Me ne vado Dai Ma Usiamo Beryl Ho sbagliato Non mi confondo Un po' Ok Facciamo la partita Ma dopo Quanto è durato Quella raid Cioè Veramente Cioè Eravamo dei nabbi Proprio Mi sapevo che con dei nabbi Non ci si può giocare In raid Non sapevo Cosa c'era il primo Anche se pensavo Che era un Frank Comunque Questo è il paradiso Questo è il paradiso Uno Non nella top Non so Non finché Vi incontro Feo Almeno uno Io Chiudo il gioco E Fernando Ok Però Questo Mi viene a invadere Mi viene a invadere Ma se mi viene Mi viene a invadere Maledizione Che prendi e scappa Prendi e scappa No Cepi Cepi Non ci provare Ok Volevi No E dai Ma basta Al sugo Al pesto Almeno Cerco di andare Perché Siamo già Nonno Cioè Già siamo Ok Siamo otto C'è un colt Che verrà colto Sul fatto E non sono potuto Scappare Cioè Sì Sono potuto scappare Cioè Volevo dire Non l'ho potuto Uccidere No Non ci provare Tanto io Tengo la ultima Ok Seconda la Vabbè Meglio Uh È mio È mio È mio Virgio No 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 Ehi No Dai Niente Questo qua Da 10 Scappa Scappa Help me No Dai Help me Help me Help me Help me Ok No Ok Grazie a Dio Mi rifugio qua Dai ma sul serio Siamo tutti No Oh 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 No Ok Ciao Bull Il Bull Ok Adesso vado da quello E lo ammazzo E l'ho 1100 trofei Infatti mi sa che ci siamo per arrivare 1089 1089 La sfortuna Un secondo che devo fare una cosa Ok 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 No No Allora facciamo assedio con chi Ovviamente con Penna Penna Che comunque la voglio usare Ditemi che almeno ho messo assedio Assedio Ok ho messo assedio Sfortuna Questa mappa non l'ho mai vista Credo Ragazzi Si vola Guarda L'ho quasi Gli altri No Oh Ragazzi Si vola No Ok Vai Beryl Prendi quello E poi rinasco Ok Bravo Beryl Che fail Che ha fatto No 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 Non lo prendete No Voi non lo prendete Ok Di livello 5 Aio Ok Andiamo Hai fatto una pessima scelta Shelley Non lo killa Ma chi mi ha ammazzato Ma non dai Dovevo piazzare Mortaio Perché c'è uno che si chiama Babbo03 Non lo so Vabbè Adesso piazzo il mortaio fastidioso Nessuno mi vede Infatti mi vede Vado qua E piazzo il mortaio fastidioso Maledizione No Non è buono No 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 Ti ammazzo Ok Ok No No Dai Prendetele 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 No 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 Ok Piazzo il mortaio fastidioso Mi levo la cura Ragazzi si vola No Mi ammazzo Ben presto Non fatevi toccare poco la torre C'è una torretta Madonna No Ok Mi allontano Ok Ma dove Infatti sono venuto tutti Ok Babbo03 Ha killato uno Che sono messo Lui Quindi tutti lo sappiamo Tu No Stavo proprio per dire Tu Jesse Invece No Era Shelly Perché mi sono confuso Ok No 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 Dai Babbo03 Però Ok Mi hanno recuperato Un Un Bullone Infatti è scappato È fatto bene No Madonna Ok Questo è un po' Super sicurezza Ok Vai con Babbo Non ci provate ad attaccarlo Perché è il nostro robot Ok Piazzo il mortaio fastidioso E andiamo in scena Cioè Andiamo in battaglia Come devo dire No E poi Ok Perfetto Ok Mi piazzo di qua Il mortaio Madonna Epple Nera Shelly Provaci Ciao Non so che ho fatto Che ho fatto Che ho scelto io No Ok No Vabbè Dai No Dai Ma lo sono All'ora Allora Sono 11 Allora Ci penso La mia potenzia No No Cambia pure più veloce No Dai No 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 Vabbè 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 No Non penso Possiamo andare Andare Ad attaccare No Vabbè 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 Maledizione Sono arrabbiatissimo Ok ragazzi Il video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao